Ogni sabato di luglio su Rai3 Piemonte vanno in onda i programmi per l'accesso, spazio gratuito e autogestito a disposizione di associazioni onlus sulle frequenze regionali della televisione di Stato, grazie ad un accordo sottoscritto tra il Corecom, Comitato Regionale per le Telecomunicazioni del Piemonte, ed il Centro di Produzione TV Rai. Le trasmissioni sono dedicate agli enti ed organizzazioni che hanno partecipato a un apposito bando emanato dal Corecom.